La soluzione contro le liste d'attesa non può essere colpevolizzare i medici. Lo ha dichiarato il presidente dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, Potito Salatto, intervenendo sulla discussione nata dopo la proposta di legge avanzata in consiglio regionale dal consigliere Amati, che prevede la decadenza dei direttori generali qualora non eseguano le attività previste dalla legge vigente e la sospensione dell'attività libero professionale qualora i tempi di attesa per le prestazioni istituzionali siano superiori di più di 5 giorni rispetto a quelle erogate in Alpi. Per efficientare la filiera della salute, aggiunge Salatto, bisogna innanzitutto attivare i sistemi di razionalizzazione, verifiche e controllo delle attività di assistenza, del numero delle prestazioni erogate, dei tempi di attesa, prevedendo anche l'introduzione di meccanismi di premierità a strutture, personale medico ed infermieristico. Ma siamo ancora lontani da un modello di questo tipo. Il presidente AIOP lancia una proposta alla Regione. Uscire dalle dinamiche dei tetti di spesa allevirebbe non poco la piega delle liste d'attesa, consentendo al privato accreditato di erogare ulteriori prestazioni. Salatto sottolinea la questione della carenza cronica di medici, e in particolare di medici d'urgenza, anestesisti e rianimatori. AIOP ha più volte preposto l'estensione delle borse di specializzazione anche alla sanità privata accreditata, o quantomeno la possibilità di far svolgere nelle strutture accreditate i tirocini dei futuri specialisti, laddove ci sono eccellenze e sempre sotto la supervisione e il controllo dell'università. Daremo opportunità a chi resta fuori dal numero di borse assegnate ogni anno e avremo più risorse per erogare prestazioni e dunque alleggerire le liste d'attesa.